Con la firma del protocollo d'intesa tra Comune e Università Partenope, prende il via il piano di valorizzazione dell'immobile di Piazza Neghelli 14, che sarà destinato ad attività didattiche e scientifiche del Dipartimento di Scienze Motorie. Attualmente chiuso e in gran parte abbandonato, ad eccezione di poche aule che ospitano la succursale della Scuola Gigante Neghelli, l'edificio sarà acquistato dall'Università, che si farà carico anche di interventi di ristrutturazione e riqualificazione della sede centrale del comprensivo scolastico in Piazza Neghelli 41. La dismissione dell'immobile, oltre ad avere ricadute positive sui equilibri finanziari del Comune, consentirà dunque di aprire una sede universitaria nel territorio di Cavalleggeri d'Aosta e restituisce alla platea scolastica del comprensivo Neghelli spazi e strutture da anni impraticabili, come la palestra, aule e servizi igienici. È un protocollo molto proficuo, molto concreto e molto utile che mette insieme il Comune di Napoli, Palazzo San Giacomo, la Municipalità, la Scuola Neghelli Gigante, locali adibiti all'Università Scienze Motorie Partenope, quindi un lavoro che tiene insieme territorio, scuola, Municipalità, Comune, Università, formazione, economia del territorio, rigenerazione urbana. È un modo di intendere il patrimonio in maniera proficua rispetto alle esigenze delle varie aree della nostra città. Presenti con il Sindaco Luigi De Magistris ed il Rettore della Partenope Alberto Carotenuto, gli assessori alla scuola e al patrimonio Anna Maria Palmieri e Alessandra Clemente, la dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo Neghelli Giuseppina Lanzaro, il Presidente della Municipalità 10 Diego Civitillo ed il Presidente della Commissione Scuola Luigi Felaco. Grazie a tutti.